... ... ... ... ... ... ... ... Grazie. 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 Ha fatto un pochino più fatica a incontrare gli avversari. Eccolo qui chi chiude l'azione e con questa azione si laurea e c'è anche la schiena. Nini è il campione d'Italia della categoria 65 kg. Grazie. Mi metti a lui, atleta della Gekos Club. E su quella matrassina sulla B possiamo chiamare anche l'altro... Grazie.